Un'acquisizione sbagliata può completamente distruggere un'azienda, come abbiamo visto nel video precedente sulle peggiori acquisizioni di sempre, ma quella giusta può invece essere un punto di svolta incredibile. Quindi oggi ci concentriamo sul lato positivo della medaglia e andiamo a vedere quelle che secondo me sono state 5 acquisizioni estremamente positive per l'azienda acquirente, quelle che hanno creato più valore per gli shareholder, come ci insegnano i meme di TikTok. E spero insomma di sicuramente sbloccarvi dei ricordi, alcuni di questi accordi sono estremamente iconici, ma anche magari darvi qualche spunto per la vostra vita professionale, riflettendo anche sul perché alcuni di questi accordi sono stati estremamente positivi. Il primo affare di cui vi parlo oggi è del 2006, prevede un'acquisizione per 7.4 miliardi di dollari, vediamo chi lo indovina senza vedere la descrizione del video, si tratta di Disney che acquisisce Pixar, un accordo estremamente interessante sicuramente per il ruolo che queste aziende hanno nel nostro cuore, per tutti i film che hanno prodotto, ma anche per le due personalità più coinvolte. Il CEO di Disney, Bob Iger, che ha risollevato l'azienda da un momento di difficoltà incredibile, in cui non riusciva a produrre nulla di nuovo, di interessante, adesso Dario Moccia mi bastonerà, ma insomma questo è quello che viene raccontato da lui, non riuscivano a creare più personaggi iconici, problema che è stato risolto anche grazie all'acquisizione di un'azienda come Pixar, che invece aveva il problema opposto, se vogliamo, difficoltà economiche, ma una creatività strabordante, incredibile per l'epoca, e anche una nuova tecnologia che ha fatto la storia. La Pixar in quegli anni aveva raggiunto un'innovazione da un punto di vista proprio dell'animazione che non si vedeva da decenni, forse proprio con la Disney, penso a Biancaneve per esempio, e anche al giorno d'oggi facciamo fatica a vedere un salto di questo tipo a livello qualitativo, a livello di produzione, forse mi viene in mente la Sony con i nuovi due film animati di Spider-Man che ha provato a fare un qualcosa di completamente nuovo e che sicuramente ha avuto un successo enorme, però ecco, all'epoca la Pixar è stata sicuramente una grande innovatrice per tutto il mondo dell'animazione, Toy Story è stata una pietra a miliare che ha condizionato tutto quello che poi è venuto dopo e quindi qui vediamo sicuramente l'interesse della Disney. Ma quali erano i problemi, quali erano i dubbi? Sicuramente da una parte Steve Jobs era una persona non facile con cui negoziare, quindi parliamo di una richiesta di più di 7 miliardi di dollari per un'azienda che aveva a malapena 40-50 impiegati, quindi un costo veramente elevatissimo, anche una richiesta molto molto forte di indipendenza del team Pixar una volta completata l'acquisizione. Infatti era importantissimo per Steve mantenere l'autonomia del team Pixar rispetto a quello Disney ed è un qualcosa che effettivamente è stato poi concesso nonostante uno degli obiettivi della Disney con questa acquisizione era quella di catturare la creatività, il talento di Pixar e inglobarlo all'interno dell'ordine, sfruttare economia di scala. Diciamo che forse al giorno d'oggi questa autonomia comincia a mancare, gli esperti sapranno dirmi se è vero quello che dico, ma la sensazione è che la qualità anche dei film Pixar si stia un po' degradando negli ultimi anni, però sicuramente per tantissimo tempo hanno continuato a sfornare dei capolavori anche sotto la guida Disney. Pensiamo a Obole, a Up, a Ratatouille, sono tutti film creati dopo il 2006, Toy Story 3, quindi sicuramente un successo incredibile. Le uniche figure che all'inizio hanno cominciato ad essere un po' da ponte tra queste due realtà sono state quelle dei direttori creativi, in particolare John Lasseter, che poi in realtà ha anche dovuto lasciare l'azienda per accuse di moleste sessuali, insomma storie poco piacevoli. Un altro aspetto complicato di questa contrattazione è legato alla malattia di Steve Jobs. Se volete più informazioni su questa trattativa vi consiglio di leggere il libro The Ride of a Lifetime, penso non sia stato tradotto in italiano, non l'ho trovato, che è la biografia di Bob Iger, appunto il CEO di Disney, che parla della sua conversazione, della sua contrattazione con Steve Jobs, dei problemi nel convincere anche il board di Disney nel fare questa acquisizione, nella sua campagna elettorale per diventare CEO di Disney. Quindi veramente veramente una grandissima lettura, magari un giorno ci dedicherò anche un video su questo canale. Un dettaglio che viene svelato in questo libro è anche che la malattia di Steve Jobs ha avuto un ruolo in questa contrattazione, infatti all'epoca non era informazione pubblica che Steve Jobs era fortemente malato, una malattia estremamente grave, però decise di confessarlo a Bob proprio verso la fine della chiusura delle trattative per essere corretto in un certo senso. Nella biografia Bob Iger dice che questo non fu un fattore appunto che lo scoraggiò dal comprare Pixar, però ecco immaginate scoprire che la persona che diventerà il vostro più grande proprietario di azioni, perché dopo l'acquisizione di Pixar, che fu tutta quanta in stock, in azioni Disney, Steve Jobs divenne proprietario del 7% delle azioni di Disney, che era la percentuale più alta per un individuo, Steve Jobs diventò anche il membro del board, scoprire che una persona che avrebbe avuto questa rilevanza all'interno della tua azienda era praticamente un malato terminale, insomma poi come sapete questa malattia gli prese anche la vita, ma si sapeva che era una malattia estremamente grave, beh non deve essere facile. Eppure questa vendita fu conclusa. Rispetto agli altri affari che vi presenterò oggi è difficile stimare a livello economico qual è stato l'impatto di questa acquisizione, perché sì, sicuramente Pixar è uno studio di produzione iconico che ha raccolto miliardi con alcuni dei suoi film, Gli Incredibili 2, Cercando Dory, Toy Story 4, incredibile vedere come i top 3 siano tutti seguiti molto peggiori dei film originali, però vabbè immagino che funzioni così. Inside Out è stato un enorme successo, Toy Story 3, quindi già solo questi sono capolavori che potrebbero giustificare l'acquisizione, ma chiaramente il valore più grande per la Disney è legato all'iconicità di questi personaggi, al merchandise che hanno potuto vendere, alla tecnologia che è stata acquisita da parte di Disney per animazione e alle informazioni, alla conoscenza che sono riusciti a raccogliere appunto dai membri del team Pixar. Vediamo se riusciranno a risollevarsi da un momento sicuramente difficile, da un punto di vista creativo, da un punto di vista di revenue. Diciamo che è qualcosa che sta colpendo un po' tutta l'industria, perché ci stiamo rendendo conto che le unit economics delle piattaforme di streaming sono difficili da conciliare con i costi di produzione dei film, quindi questa sarà una sfida enorme per in realtà qualsiasi casa di produzione. Chiaramente non sappiamo se la Pixar continuerà a sfornare successi nei prossimi anni, avessimo la sfera di cristallo, probabilmente saremo tutti quanti in un centro commerciale di Dubai a goderci lo skyline, anche perché fuori farebbero 55 gradi, quindi l'aria condizionata è fondamentale. Ma ecco, sicuramente questa acquisizione, oltre a essere iconica, è stata estremamente positiva per l'azienda. E per sintetizzare il discorso su questa acquisizione, vi riporto il commento proprio di Bob Hiker, riferisce di aver capito la necessità di acquisire un'azienda come Pixar quando si è reso conto che nelle parate che avvenivano, per esempio, nei parchi di divertimento Disney, la maggior parte dei personaggi con cui i bambini volevano farsi le foto, con cui volevano avere a che fare, erano stati creati decenni prima. La Disney stava avendo una difficoltà incredibile a creare dei personaggi iconici, nuovi, e Pixar è stata una linfa vitale incredibile, importantissima da quel punto di vista. La seconda acquisizione di cui vi parlo sicuramente guarda meno alla nostra infanzia e più alla nostra invece triste vita da professionisti, parliamo di un accordo da più di 26 miliardi di dollari per Microsoft che acquisisce LinkedIn. LinkedIn è piattaforma social che tutti voi conoscerete, piattaforma diciamo dedicata al mondo professionale in cui si possono mettere annunci di lavoro, candidarsi ad annunci di lavoro, essere contattati da recruiter in continuazione per lavori che non hanno assolutamente nulla a che fare con le vostre qualifiche o con i vostri requisiti a livello di salario, scrivere post estremamente boomer però sentendosi meno boomer perché non lo si fa su Facebook, ma soprattutto copiando post di altri e spacciandoli per propri sul proprio profilo. Ma al di là di tutti questi aspetti un po' noiosi di LinkedIn, io credo che sia uno dei social media più sottovalutati, quando si parla del grande successo di social media si parla sempre di Instagram, di Facebook, di TikTok, ma zitto zitto con sicuramente meno utenti, con meno rilevanza culturale, LinkedIn riesce a monetizzare in maniera incredibile quelli che sono i propri utenti. Infatti solamente nel 2022 le revenue di LinkedIn sono state 13.8 miliardi di dollari, quindi una quantità incredibile se pensiamo appunto che la quantità di utenti attivi non è neanche lontanamente paragonabile a quella di Facebook, a quella di TikTok, e riesce a farlo grazie a un'ottima suite di servizi professionali per quanto riguarda la parte di sales, la parte di reclutamento e spiegare la suite di prodotti di LinkedIn mi aiuta anche a spiegare perché questa acquisizione è stata rilevante per Microsoft, un'azienda che vende ad altre aziende. Se ve lo chiedevate, questo è il motivo per cui esistono ancora tutte quelle key di Windows a 15 euro dal burbini est, perché tanto a Microsoft interessa vendere le key ai business per 100-150 euro, quant'è? Gli interessa poco se voi poveri cristiani poi le pagate 15 euro con mezzetti perché tanto alla fine loro monetizzano in altro modo, ve lo darebbero pure gratis se solo poi questo non compromettesse le vendite del software ad aziende. Chiusa questa parentesi, quindi l'acquisizione di LinkedIn sicuramente è riuscita a portare Microsoft nel gioco dei social network, dei social media, che non è scontato, vediamo la difficoltà invece che ha avuto Google con il famosissimo Google+, per esempio, e soprattutto gli ha dato accesso a un database enorme di laboratori, di aziende che devono utilizzare LinkedIn per essere rilevanti al giorno d'oggi e tantissime informazioni che sicuramente utilizzano anche su base giornaliera per prendere decisioni strategiche, quindi ottimo colpo da parte di Microsoft, non sappiamo oggi quanto possa essere valutata LinkedIn, ma sicuramente questa acquisizione riceve il mio polino verde di approvazione. Continuiamo a parlare di social media per parlare di quello che forse è stato il più grande furto nella storia delle acquisizioni, cioè Meta, che acquisisce Instagram per un miliardo di dollari. È incredibile tornare indietro e vedere tutte le persone che ritenevano questo affare una follia. All'epoca chiaramente non si chiamava Meta, l'azienda si chiamava Facebook e tutti si chiedevano perché Facebook avesse acquistato un'azienda che non faceva soldi come Instagram per una cifra così importante. Un'azienda che anche all'epoca, un po' come Pixar, aveva pochissimi impiegati, ma che era riuscita a già catturare tantissimi utenti interessati nel condividere le proprie foto. Bene, ad oggi le revenue che Instagram porta al mondo Meta sono sopra le decine di miliardi di dollari, quindi già solo in un anno di revenue considerati margini e tutto il resto probabilmente Facebook riesce a rientrare di questa acquisizione. Ci sono stime che dicono che l'acquisizione di Instagram abbia aggiunto centinaia di miliardi di dollari, 150 miliardi di dollari al market cap totale dell'azienda. Chiaramente questo è un numero che varia tantissimo, specie in un momento come quello attuale di forte volatilità, ma ecco è ovviamente stata un'acquisizione incredibile che è riuscita a salvare Facebook da momenti potenzialmente difficili perché come vediamo i social media hanno un ciclo, quindi si è partito dal periodo in cui MySpace era il figo, poi Facebook, poi Instagram, adesso TikTok, vediamo come reagiranno, però ecco se al giorno d'oggi Facebook avesse fatto affidamento solo sul proprio social media iniziale, la sfida sarebbe stata molto più difficile cioè mantenere la rilevanza culturale, copiare le features di Snapchat, insomma molto molto difficile. Quindi questo è un esempio di sinergia proprio lineare, perfetta, in cui lo stesso meccanismo di advertising che c'era su Facebook dove le persone scrollavano e vedevano i post è stato riproposto su Instagram in maniera chiara, semplice, insomma una vittoria da tantissimi punti di vista. Rimandiamo sul tema meta per parlare di un'altra acquisizione che è divenuta storica, cioè quella di WhatsApp, appunto da parte di Facebook, nel 2014, quindi pochi anni dopo. È veramente interessante vedere che solo a distanza di due anni il valore di questo tipo di acquisizioni si è cambiato tantissimo, quindi forse WhatsApp era diventato più consapevole del proprio valore grazie anche all'acquisizione di Instagram. Infatti Facebook spese più o meno 16 miliardi se non di più a causa poi del discorso legato alle stock, insomma un po' complicato, però è intorno ai 16 miliardi per acquisire WhatsApp. Paradossalmente forse WhatsApp è uno dei pochi social media che ha quasi più difficoltà penetrare negli Stati Uniti rispetto che nel resto del mondo, quindi questa è anche componente interessante se vogliamo di diversificazione per meta, nonostante chiaramente ormai i prodotti siano extra globali, non fraattendetemi. Ad oggi non è facilissimo dare un valore monetario a WhatsApp, ancora più difficile che con Pixar, perché rispetto a Instagram l'implementazione di un programma di monetizzazione è stato molto meno chiaro, non sono state messe pubblicità a caso nelle chat di WhatsApp o tra i messaggi che vengono mandati all'interno, grazie a Dio oserei dire, ma il piano di meta sembra essere quello di incentivare fortemente opzioni di messaggistica per le aziende, pensate a customer support, all'invio di prodotti, quindi conferma della ricezione o conferma della spedizione, insomma tutto quello che può essere una sorta di email marketing, però trasportato all'interno di WhatsApp dove i tassi di apertura e i tassi di risposta sono molto più alti. Quindi sicuramente un piano interessante, però al giorno d'oggi il valore principale di WhatsApp sembra essere nei dati che meta è riuscita ad accumulare avendo di nuovo miliardi di persone che giornalmente usano questa loro applicazione per messaggiare, quindi anche questa è un'acquisizione che col senno di poi può ricevere il bollino verde, anche se è un po' meno verde rispetto al bollino di Instagram che invece è stata chiaramente un successo da tutti i punti di vista, culturale, di distribuzione e monetario. A WhatsApp quest'ultima parte forse manca ancora. L'ultima acquisizione di cui vi parlo oggi è osteggiata anche dai poteri forti, infatti la parte del video in cui ve ne parlavo della registrazione di ieri è scomparsa nel nulla, quindi sono tornato qui il giorno dopo per parlarvi dell'acquisizione di YouTube da parte di Google. Acquisizione che avviene nello stesso anno di Disney e Pixar, quindi 2006, lo stesso anno in cui grosso ci fa sognare. Può sembrare come veramente un momento lontanissimo a tutti noi ma c'è stato un momento in cui YouTube era indipendente e non era parte di Google. YouTube è stata acquistata per 1.85 miliardi di dollari, anche in questo caso le sinergie si spregano, stiamo parlando fondamentalmente dei due più grandi motori di ricerca al mondo, appunto Google e YouTube che è un motore di ricerca video ma sempre un motore di ricerca e questa idea nasce anche dal fatto che Google comincia a notare la presenza e la ricerca di video all'interno delle ricerche degli utenti quindi capiscono che aggiungere dei video all'interno della SERP di Google può essere un'ottima idea e chiaramente aggiungere video YouTube alla ricerca di Google beneficia anche YouTube stessa perché porta tante visualizzazioni e tanta attenzione su quei video e tanta attenzione e tante visualizzazioni vuol dire anche tanti ads che possono essere venduti quindi tutta la tecnologia l'expertise la conoscenza di Google in ambito ads viene e può essere trasferita da Google stessa a YouTube chiaramente si parla di un mezzo molto diverso con cui fare advertising si passa dal testo al video anche per questo magari YouTube non è adottato così tanto come metodo di advertising rispetto a Google Ads siamo su livelli di grandezza differenti in realtà se vogliamo essere precisi proprio quasi un decimo infatti un decimo delle revenue di Google arriva da YouTube si parla di circa 30 miliardi di revenue attribuibili a questa questa piattaforma video chiaramente uno svantaggio evidenziabile rispetto a Instagram tornando appunto i precedenti della lista è che YouTube condivide molto di più delle proprie revenue con i creatori di contenuti quindi se io faccio advertising su Google do 5 dollari a Google per finire in prima posizione per una certa keyword ogni volta che qualcuno clicca quei 5 dollari vanno direttamente nelle loro tasche nel caso di YouTube invece ci sono delle persone delle aziende che creano questi contenuti su YouTube e che si prendono dipende insomma un po' di norma circa il 50% quindi metà dei soldi dell'advertising quando a produrre i contenuti è un partner di YouTube vanno a finire al creator che da un certo punto di vista è ottimo perché persone come me sono spinte a fare video anche per questo motivo perché sicuramente danno la possibilità a creatori di contenuti di sostenersi facendo solamente questo come lavoro ed è stato un aspetto fondamentale della crescita di questa piattaforma però allo stesso tempo molti dei guadagni sono appunto dimezzati poi per questo motivo in ogni caso ha anche poco senso stare qui a dibattere se sia stata un'acquisizione positiva o no lo è ovviamente stata ci sono stime mi sembra di Business Insider che dicono che YouTube abbia aggiunto più di 85 miliardi di dollari alla valutazione di Google quindi dai diciamo che un ritorno sull'investimento di oltre 40 volte per un'azienda che è stata acquistata a già un miliardo punto 8 di dollari non è niente male questa ultima acquisizione più dell'episodio di oggi io vi ricordo che c'è un video anche sulle peggiori acquisizioni mai fatte probabilmente comparirà da qualche parte se volete andare a vedere penso che sarà un divertente seguito a questo se lo avete già visto intanto iscrivetevi al canale usciranno altri video come questo e soprattutto scrivete nei commenti quali altre aziende vorreste vedere all'interno di questa serie sono molto curioso di vedere quali suggerimenti mi darete e fatemi sapere anche di queste 5 secondo voi qual è stata effettivamente la migliore questa non era una classifica era un ordine un po' sparso sono curioso di sentirlo ci saranno sicuramente anche altri episodi di questa serie Google deve tornare con un'altra acquisizione forse ancora migliore di quella di YouTube vediamo chi è che la indovina noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.